Come sempre Aaron parla Bacino Anche io bacino Sì, è un video ragazzi Allora Aaron, dato che tu parli molto Aaron, parla ma non ascolta Dato che tu parli molto, raccontaci qualcosa La verità, io vado le altre Non sono più appuntati Con la fisica Non è che c'è stato un buon Questa è stata fantastica Cosa deve avere? Cosa deve avere? Cosa deve avere? Faccio il tuo saluto L'auricolare 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 L'auricolare